Tu hai togliere un numero per 1 a 12, come ti piace. 12 Ho messo una carta e lo metto nel medio del deck. Facciamo ancora la stessa cosa. Mi racconto la carta sul tavolo e ti dico stop e, su questo punto, metto il 3 di spade. Stop! A questo punto, metto il 3 di spade e cerco il deck. Ora abbiamo le due caratteristiche posizionate nel deck. Le due caratteristiche saranno sbagliate con le altre due caratteristiche sul deck e si formano due piersi. Guardiamo i piersi e quando mettiamo un piersi qui e il secondo piersi qui. Qui. L'interesse cosa è che ho messo un 3 e un 10 sul tavolo. E tu mi hai stoppito sulla carta con il 3 di spade. E tu mi hai stoppito sulla carta con il 10 di spade. L'altro interessante è che la carta che abbiamo trovato ha questa tavola e le card che ho messo al primo del tavolo hanno le stesse tavola. Nooooo. Un deck di card che sono fatti da tutti i diversi tavoli. Nooooo. Tutti diversi. ma un'altra cosa sorprendente è che hai scelto una carta nero con tutte le reti e con la stessa carta no wow no